Ecco qua. Buongiorno a tutti. Siamo nell'aula 02 di Palazzo Battiferri dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Siamo qua per presentare il volume appena uscito del professor Niccolò Tarquini, che dimostro, Eternità e divenire, Emanuele Severino e la metafisica classica. Quindi un volume molto importante, più di 400 pagine, dietro al quale ci sono anni di lavoro di questo giovane studioso. Un giovane studioso che si è laureato all'Università di Perugia e poi ha conseguito il dottorato di ricerca alla Pontificia Università Lateranense di Roma ed è stato seguito nel suo lavoro dal professor Leonardo Messinese. Che non si vede, non si vede qui. Non si vede. Ah c'è, 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 ok. E purtroppo non si vedono neanche i partecipanti in aula, ma ecco sono qui. Eba Messinese... Eba Messinese bisogna vederlo, a minuti glielo mostro. Allora... Di profilo, sì, vabbè. Questo è a lui, che è qua accanto a me, abbiamo, che è appena intervenuto, il professor Carmelo Vigna, che è professore merito all'Unità Ca' Foscari di Venezia, che tutti conosciamo. E poi ci sono, che presenteranno, ecco, oltre al professor Messinese, che ha anche curato la prefazione a questo volume, ci sono il professor Marco Aguti, che... Andrea. Andrea, scusate, Aguti. Bello, il professor Marco. Bello, eh? Che è nostro ordinario di filosofia morale qui all'Università di Urbino. e, infine, il professor Paolo Bettineschi, che lavora all'Università di Messina ed è anche, diciamo, il direttore di questa collana italiana, pubblicata dall'editore Ortotes di Napoli-Salerno, che ospita come volume quindicesimo, appunto, il volume che andiamo a presentare. Ora, io... C'è anche Donaldo Messinese. E c'è Messinese ovviamente in presenza, che dopo presenteremo. E adesso io darei subito la parola, come primo intervento, al professor Carmelo Vigna, che è appunto professore merito all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove ha insegnato filosofia morale per tantissimi anni, ha avuto anche tantissimi incarichi, è stato il direttore del Dipartimento di Filosofia, Teoria e delle Scienze, e ha anche fondato il Centro Interuniversitario per gli Studi sull'Etica, il CISE. Quindi qua, per esempio, abbiamo collegato con noi il professor Campodonico di Genova, che anche lui ha fondato un centro di ricerca sull'Etica. Quindi questo vi fa capire come il volume che stiamo presentando, concentrandosi sul pensiero di Emanuele Severino, però interseca anche dei temi che appunto interessano il campo dell'Etica. Io non sto a elencare tutte le pubblicazioni del professor Vigna, perché saremo qua fino a domani. Dico qual è la mia preferita, che è Il frammento e l'intero, che è pubblicata diversi anni fa per Vita e Pensiero e che occupa un posto particolare nella mia biblioteca, e che è stata per me di... Grazie, grazie di questo onore, grazie. Io chi sono? Mi chiamo Raffaella Santi e insegno qua all'Università di Urbino, Storia della Filosofia, e perché presiedo? Perché, diciamo, in questa fase, sono anche presidente della locale sezione della Società Filosofica Italiana, che ha patrocinato appunto la presentazione di questo libro insieme al Dipartimento di Studi Umanistici. e quindi passo adesso la parola al professor Vigna e lo ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Grazie. Grazie a voi da parte mia e chiedo subito quanto tempo ho a disposizione? Guardi, una ventina di minuti... Una ventina di minuti... Va bene? Va bene, va benissimo, va benissimo. Io obbedisco come Garibaldi, non c'è un problema. Va bene. Allora, comincio con le laudi perché il libro che siamo qui adesso a discutere è effettivamente monumentale. Credo che abbia impegnato, come lei del resto ricordava, l'autore per qualche anno e la cosa più completa che c'è, diciamo, sul mercato intorno a Severino ma vorrei dire intorno a tutto ciò che Severino ha suscitato anche di Vespaio dal punto di vista delle discussioni, degli scontri. si tratta di una storia che ha anche avuto aspetti direi quasi drammatici perché è una storia che ha al proprio interno una rottura accademica grave con l'ambiente della cattolica e che cito subito perché io quando ero più giovane ho avuto gli effetti di questa rottura di Severino con la cattolica già che nel 70 più o meno la cattolica pattuì con Venezia Ca' Foscari un trasloco di Severino e noi giovanotti trentenni fummo tutti in massa messi alla porta e emigrammo a Venezia come i Corinzi a Siracusa più o meno e con noi devo dire emigrò anche in qualche modo per buona parte la metafisica della cattolica cioè il gruppo dei giovani che seguendo Severino e avendo ascoltato anche molto Bontadini in qualche maniera ereditava e coltivava ciò che la cattolica come insegnamento a partire da Vasnovo aveva messo sul piatto per questo il libro di Nicolò è per me una sorta di Amarcord perché prende 60 anni della mia vita è nel 83 cioè io arrivato in cattolica nel 59 mi trovai in mano la struttura originale di Severino pubblicata l'anno prima e di cui già si discuteva animatamente e poi subito dopo l'insegnamento di Severino che allora era trentenne ieri ero ventenne la differenza è di undici anni Severino è del 29 e del novecento e io sono del 40 quindi è una generazione accademica di mezzo che sono dieci anni in genere ora quello che vorrei aggiungere riguardo al libro di Nicolò è che si tratta di un testo dove ed è raro che capiti dove l'autore padroneggia perfettamente i contenuti li discute con profondità e questo se si pensa anche alla completezza dell'indagine che copre appunto praticamente quasi un secolo di discussione di metafisica dico dà l'idea della importanza di questo lavoro e della bravura di Niccolò Tarquini con cui mi congratulo volentieri le faccio volentieri i complimenti e adesso c'è all'orizzonte un nuovo metafisico e quando questo nasce io aggiungo in qualche maniera una striscia a tutta la sequenza dei metafisici italiani che hanno anche molti giovani bravissimi tra cui appunto il Paolo Bettineschi che è qui presente e non cito i più vecchi come appunto il collega Messineo che beh io sono vecchissimo lui è più avanti con gli anni ma è già un anziano ecco la metafisica non è morta sono contento ecco perché diceva già un grosso filosofo a tutti noto e da tutti venerato Hegel la filosofia senza metafisica è un tempio praticamente vuoto ora la metafisica di Severino e da Nicolò e anche dal suo maestro dico così guida da Leonardo Messinese la metafisica di Severino è considerata addirittura una ipermetafisica cioè una metafisica che rispetto a quella tradizionale aggiunge delle avance niente meno che sull'eterno dove di fatto si installa ecco ecco io dico subito che per educazione ricevuta sono venute su a pane d'Aristotele praticamente per una vita sono un po' un po' diffidente quando dopo aver detto che il mondo dell'esperienza non è tutto ci si mette dall'altra parte come sulle spalle di Dio per scrutare da quella parte il nostro mondo ecco io oltre al venerare Aristotele io e e Platone e Agostino insomma i grandi classici io naturalmente sono affezionato come sanno tanti anche ai testi di Tommaso il quale diceva che ad essere rigorosi a un filosofo di Dio non sappiamo assolutamente nulla Penitus Nickel proprio non se ne parla neanche vuol dire dopo aver detto che c'è è bene battere in ritirata Severino è molto più udace su questo terreno e anzi a partire come è noto dal 64 col suo ritornare a Parmenide che fece scalpore anzi si installò come ce andavo prima dalla parte dell'Eterno perché difese la tesi audacissima che dice che ogni cosa che esiste anche il filo d'erba ogni cosa che esiste è eterna ora una cosa così non l'ha detta effettivamente mai nessuno e poi Severino anche aggiungeva che quelli che pensano che questo non sia vero sono un po' come dire completamente nell'errore ma qui l'errore è l'errore di secoli di pensatori di secoli di metafisica che nell'intenzione del giovane Severino andavano tutti castigati perché avevano sbarrito il senso dell'essere e il buon Etienne Gilson che è un medievalista di spicco come noto aveva una battuta simpatica che poi circolava anche alla cattolica perché Bontadini poi l'aveva anche fatta sua diceva che quando uno vede troppi matti in giro e cosa saggia farsi visitare diceva e in effetto Severino nel col 64 appunto scatenò una temperie di obiezioni restò anche in qualche maniera isolato con questa tesi che confliggeva con tutta la metafisica di tradizione classica e soprattutto era incompatibile nell'ambito della cattolica con tutto quello che la cattolica come immagine e come dottrina da altri lati e da altre forme rappresentava quindi la rottura nonostante i buoni uffici di più d'uno lì dentro tipo la Sofia Vannino Vighi tipo teologi di grande calibratura di consiglieri del Papa lasciamo stare a tutti i nomi la rottura dicevo nonostante i buoni uffici di alcuni fu inevitabile ma dico faccio un po' di narrazione perché ci sono i ragazzi che ascoltano e forse è bene far capire di che si tratta appunto attraverso un poco di narrazione poi aggiungo qualche battuta prima di chiudere del merito della questione allora dico questa cosa qui soprattutto causò una sorta di drammatico inconveniente e dolore del maestro di Severino che era il nostro maestro comune Bontadini Gustavo Bontadini il quale replicò anche duramente ma sempre affettuosamente nel contempo al ritornare a Parmenide di Severino con il suo soggentafenomeno salvare i fenomeni replicò con allora una obiezione che cito perché è una delle cose più importanti dette su Severino cioè sull'eternità di ogni ente una delle obiezioni che Severino tentò per anni di considerare e di togliere a mio avviso senza esserci mai riuscito cioè quella obiezione di Bontadini di cui adesso dico l'essenziale era effettivamente imbattibile perché osservò Bontadini subito a Severino che se tutto è eterno come dici tu allora il mio attuale vedere pingo pallo io vedo pingo pallo questo vedere pingo pallo è eterno ma io non vedo sempre pingo pallo quindi almeno questa relazione intenzionale tramonta non nel senso che sparisce se no io dovrei continuare a vedere pingo pallo ma nel senso che non c'è più che finisce il finito come ama dire anche Paolo qui presente se è finito è destinato a finire non è che sia una roba sconcertante questa Severino a partire da lì ha cominciato poi a costruire una nuova lettura del divenire secondo cui appunto le cose che sembrano finire in realtà non finiscono sono eterne spariscono vanno dietro l'orizzonte dell'apparire ma ma questa cosa fa pugni col senso comune e col buon senso perché oltre all'obiezione giusta di bontadini inoltrepassabili a mio avviso c'è da considerare che noi nella normale fenomenologia per quello che tutti vediamo per il constatare elementare di ogni essere umano che abbia testa e veda se la bottiglia che è davanti a me o il calice di vetro di vino che accade a me cade e si rompe non è che qualcosa viene avanti nell'apparire e il calice intero se ne va dietro l'apparire perché vengono avanti i pezzi di calice noi abbiamo e questa è un'iservazione elementare profonda di Aristotele noi abbiamo la permanenza della forma del calice e quando il calice si è rotto sappiamo che si è rotto quel calice perché permane la forma del calice quindi il calice intero non c'è più non è che è sparito dietro una tenda e questa esperienza è l'esperienza d'ogni cosa d'ogni cosa che appunto finisce allora Severino rispose con una complessificazione ancora della della faccenda della lettura del divenire dice distinguendo tra un divenire empirico diceva lui il vedere pingo pallo e lo spettacolo dell'apparire che è trascendentale si dice il nostro vedere il mondo per cui fermo restando il nostro vedere il mondo come spettacolo dell'apparire trascendentale è intrascendibile il vedere pingo pallo va dietro pure perché eterno va dietro pure e ora a parte il fatto che se fosse eterno come diceva giustamente Montadini il vedere pingo pallo io dovrei sempre vedere pingo pallo sapete che rottura vedere sempre pingo pallo vabbè ma a parte questo la figura che Severino mette in campo per dirimere l'obiezione dell'apparire empirico non esiste non ha nessun senso ha senso apparire dell'empirico ma non apparire empirico l'apparire empirico è una figura speculativamente non classificabile non esiste è un'invenzione di Severino per sfuggire alla difficoltà dell'obiezione allora io ho ricordato questo adesso primo punto un altro e poi chiudo primo punto per dire che Bontadini aveva subito capito che quella cosa lì che l'allievo proponeva non era sostenibile anzi era arrabbiato per il tono perché scrisse risponde a Severino scrisse Gesù Cristo è il verbo che si è fatto carne tu sei la carne che si è fatta a verbo ed era arrabbiato perché amava tantissimo Severino si sono sempre voluti bene al di là di tutto ma vedeva la propria eredità in qualche maniera ingestibile nell'allievo più geniale che aveva avuto nella sua carriera accademica allora dicevo questo è un primo pilone ecco su per dire per come concluderò cioè la lettura severiniana del divenire è ingestibile dal punto di vista speculativo facua da tutte le parti e poi è assolutamente al di fuori del senso comune va bene la seconda parte qui divento magari ancora spero più breve la seconda parte riguarda invece il senso dell'essere che sono i due poli l'esperienza e il divenire dell'esperienza e il senso dell'essere ora qui Bontadini non si è più di tanto qui speso perché aveva ben capito che era anche lui chiamato in causa cioè il senso dell'essere coltivato da Bontadini risaliva al senso dell'essere parmenideo per cui la significante o semantizzazione dell'essere vuol dire l'essere non è non essere non si può dire altro quanto all'essere se non che esclude il nulla l'essere non è non essere ora una così dura e pura significanza dell'essere è giusta ci mancherebbe ma aggiungo io qui mi sono io personalmente scusate se mi metto avanti per pochi secondi mi sono un po' speso a dire questa semantizzazione dell'essere ci fa capire il significato essere che effettivamente si capisce solo dicendo che non è non essere ma di ciò che l'essere è come interno di come è fatto questa cosa qui non serve a niente quasi oserei dire e Aristotele invece ci ha messo 12 libri di metafisica per dire come dentro va pensato il la faccia il modo in cui l'essere a noi appare sostanza accidente atto potenza le categorie qualità quantità questo è lo spettacolo dell'essere ad intra se noi ci teniamo soltanto alla prima forma e con quella interroghiamo qualsiasi cosa non ne capiamo nulla perché dire che l'essere non è non essere davanti al filo d'erba cosa mi fa capire quasi niente è quasi nulla e Hegel nell'indice della logica proprio diceva l'essere vuoto l'essere vuoto può andare riempito allora e vedo di chiudere la impresa severiniana è legata a questi due punti estremi poi bottadibili le addiritture uno contro l'altro non lasciamo stare questa parte qui ognuno di questi due punti è ripeto l'aggettivo ingestibile ingestibile perché dire che l'erba il filo d'erba è essere che non è non essere e non dire niente del filo d'erba o quasi quasi niente attribuire però in senso potente questo predicato il filo d'erba è essere che non è non essere e vuol dire fare il filo d'erba lo stesso che Dio perché Dio è l'essere che non è non essere nella metafisica tradizionale sia tra loro tutto diventa eterno e sono il filo d'erba è un pezzo di Dio un dito mignolo che ne so io di Dio capito ora e chiudo questo tipo di impostazione metafisica non può essere semplicemente un prolungamento della metafisica tradizionale non può essere un suo rinverdire il vecchio albero e qui io mi ritraggo rispetto all'audacia di Nicolò e all'audacia di Leonardo suo maestro che con molta generosità con grande intelligenza vorrebbero in qualche maniera salvare un po' di Severino io dico avete ragione se stiamo al Severino della struttura originaria che era ancora all'interno della metafisica ok ma il Severino di ritornare a Parmenide è proprio una roba da matti metterci dietro lavoro intelligenza e genialità a mio avviso è sprecare è sprecare intelligenza a mio avviso sono qui con la conclusione drastica del vecchietto che il vecchietto dove lo metto ma a mio avviso io come dire arruolerei ancora Severino per quanto lui fosse redettente alla leva arruolerei Severino nella metafisica come tradizione neoclassica ma fino alla struttura originaria e mettiamoci pure gli studi di filosofia della prassi ma poi dopo con il ritornare a Parmenide francamente ha lasciato la casa del padre e è andato lontano a pascolare coi porci e a mangiare ghiande e non è neanche il figlio prodigo che poi dice voglio tornare nella casa del padre non ne voleva sapere ma proprio niente perché ha lottato in tutti i modi per sbarcarsi e quella parte di Severino lo dico con dolore perché tanto ho mio maestro quella parte di Severino a mio avviso è una parte da lasciar cadere non da battezzare sono stato un po' drastico forse vi scuserete ma io che apprezzo tantissimo Leonardo e anche Nicolò dico da vecchietto sì onoriamo Severino ma che tutto l'essere sia eterno per carità per carità di Dio solo pensare al dolore ragazzi pensare alla morte come si fa a dire tutto è eterno al male come si fa a dire che tutto è eterno e vuol dire che dall'inferno uno non cave più piede e questo è un messaggio che alla gente non si può dare da metafisici grazie 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 al professor Carmelo Vigna che il cui intervento apprezziamo molto credo anche gli autori perché ovviamente la dialettica delle idee è quello che poi fonda la filosofia no? e che e quindi ci piace moltissimo bella anche nell'inizio in cui ci ha fatto rivivere gli anni... C'era cattolica, gli anni 60 e 70. Grazie. Allora adesso passo la parola al professor Andrea Aguti, che insegna qui da noi all'Università di Urbino. Lo conosco bene Andrea, abbiamo fatto tante cose insieme. Lo conosciamo anche noi. È docente ordinario di filosofia morale e insegna filosofia delle religioni ed è presidente dell'Associazione Italiana di Filosofia della Religione e tra le sue tante pubblicazioni ne cito una che mi sono appuntata qua, Filosofia della Religione, storia, temi e problemi, che è anche uno strumento molto molto utile, non solo per gli studiosi, ma anche per i nostri studenti. Passo subito a lui la parola, che adesso prenderà il mio posto, perché dovrà parlare... se no spostiamo il video, non so se arriva l'audio, proviamo. Credo che ci si riesca. Così saluto tutti, anche molti amici, colleghi che sono collegati e naturalmente tutti i presenti. Dunque, allora grazie in assoluto a Nibolo Tarpini per questo invito e mi ha messo un po' in imbarazzo, perché io gli ho detto subito che di Severino io so poco. Poi gli ho detto anche un'altra cosa, che non solo so poco di Severino, ma che il pensiero di Severino non mi rimane neanche molto simpatico e i motivi li ha parso espressi il cammello vigna nella conclusione. Allora mi sono ritagliato, per così dire, uno corticello. L'orticello è quello di fondamentalmente parlare del rapporto tra Emanuele Severino e Italo Mancini, cioè il professore di cui io sono allievo, sono scepo, quindi il mio maestro, che appunto ha condiviso con Severino un tratto di strada, un po' santo perché, come diceva prima il professore Vigna, erano entrambi allievi di Gustavo Voltadini, che ha insegnato per tanti anni qui a Durbino, alcuni decenni qui a Durbino, e che ha preso una strada, direi, particolare, che è appunto quella della filosofia della religione, che insomma io, quello che posso, cerco di ricontinuare. Allora, siccome il professor Nicolo Tarquini dedica alcune pagine nel suo volume appunto alla ricostruzione del dibattito tra Mancini e Severino, dirò qualcosa su di lui, e quindi non sto a dire quanto è bello questo libro, quanto è interessante questo libro, quanto è profondo questo libro, perché sono tutte cose che condivido e sappiamo. Posso solo dire ai suoi studenti, che hanno la fortuna di avere un ottimo professore di filosofia, come si evince da questo libro. Allora, inizio anch'io da che cosa? Da un aneddoto personale, credo di averlo già raccontato, sicuramente a Donato Messinese, forse a qualcun altro, è un aneddoto che risale al 1990, forse al 91, o un libio diciamo sull'anno. Ma insomma, io ero, se ero il 90 ero laureando con Italo Mancini, se ero il 91 ero appena laureato, e Italo Mancini doveva andare ad un convegno, partecipare ad un convegno a Napoli, presso l'Istituto Sorosso da Venincasa, che allora era molto attivo. Però non era così deciso ad andare. Non sapeva se andare, se non andare. Allora a un certo punto venne a me e mi disse guarda, io vado a questo convegno soltanto se tu mi accompagni con l'auto. Mancini non guidava. Io naturalmente, cioè certamente, a dire te avevo qualche dubbio, perché avevo appena comprato l'auto. L'idea di andare in auto a Napoli non mi entusiasmava, onestamente, ma superai, diciamo, di slancio. E questo dubbio, e quindi accompagnai Mancini. Vi tralascio qualche particolare, cioè Mancini era naturalmente stato invitato dall'organizzazione, ma l'organizzazione si aspettava un unico relatore, cioè lui. Non si aspettava quest'altro che lo accompagnasse. Grandissimo albergo, lussosissimo albergo che ci ospita. Non c'era una camera. Per me alla fine viene fuori niente di meno che la suite imperiale, diciamo così. Quindi grazie ad ogni periodo, ho dormito, diciamo, nella sistemazione alberghiera, la più lussuosa che è nella quale io mi sia potuto per me. Quindi a Mancini devo molte cose fare in pubblico. Lo avevi messo. Lo avevo messo. Però vengo adesso al succo dell'aneddoto, perché l'aneddoto è questo, cioè la sera appunto dell'arrivo del convegno ci mettiamo a cena con Italo Mancini e a un certo punto arriva Severini. Dunque io e Don Italo eravamo già seduti a tavolo, quindi vediamo Severino, io naturalmente mi alzo, come dire. Severino appunto saluta Mancini e gli fa ciao Don Mancini, questa è stata pure la sua espressione, come stai? e Don Italo gli risponde bene, anche se avverto il morso della contingenza. Allora, diciamo, io ero giovane, insomma, neanche troppo sveglio, adesso sono diventato vecchio e non sono particolarmente sveglio neanche adesso, però insomma, allora capì e non capì, poi ci ho ripensato e ho capito bene, ma insomma, quanta ironia era appunto in questa risposta di Mancini che dice fondamentalmente l'essenziale per la diciamo così distinzione tra Mancini e Severino, perché appunto Mancini ammette la contingenza, cioè essere, non essere, diciamo così, la commistione tra essere e non essere, Severino no. Infatti Severino non replicò, sorrise, però andò a sedersi ad un altro tavolo. Naturalmente mi rimasi molto deluso perché mi aspettavo una scena epica diciamo, in cui avrei potuto assistere ad una riscursione, una giga, una giga automatica sull'essere e chiese a Mancini ma perché Severino se n'è andato all'altro tavolo? E allora Mancini mi disse beh sai, lui è Severino e accompagnò questa affermazione con un gesto della mano, faceva così, come per dire lui non si confonde con noi poveri mortali. Allora, in questo episodio che per me appunto è stato sempre, diciamo, significato, è stato sempre significato, ripensato ultimamente quando ho dovuto riflettere un po' sul tema di oggi. Adesso, messo da parte l'aneddoto, poi alla fine del mio discorso ne richiamerò un altro, però indirettamente, vengo a dire qualcosa di serio, in realtà il confronto tra Mancini e Severino è molto limitato ed è limitato direi così a, per quanto riguarda Mancini, quattro pagine che si trovano nella filosofia della religione, cioè l'opera che Mancini ha pubblicato nel 1968 in prima edizione, verso la fine, nella prima edizione del testo di Mancini si trattava proprio del penultimo parato e ad una replica di Severino arrivata proprio come dire, in extremis nel suo scritto appunto risposta ai critici dove appunto mette un appendice in cui dice mi è arrivata l'ultimo no, mi sono arrivato l'arrivo di Mancini in cui e quindi fa le sue fa le sue reti. Quindi abbiamo fondamentalmente quattro pagine da parte di Mancini con una breve aggiunta poi in un altro testo che è Teologia e Teologia e Teologia del 74 sono tutti i riferimenti che Tarquini ha ben messo nel suo testo e quanto mi risulti non ci sono state invece altre reti da parte di Severino oltre a quella appunto nel suo scritto in risposte critici. Su che cosa ci è giocata direi su cosa ci è giocato il confronto? Il confronto si è giocato su questo essenzialmente Mancini nel paragrafo che dedica a Severino e che lui appunto intitola la parola non è ambigua sostiene che la tesi severiniana adesso la tesi severiniana che dirò dell'ambiguità del linguaggio sapico determina per così dire da un colpo mortale alla nostra concezione dell'Emmenese di Mancini soprattutto se accompagnata dalla negazione della metafisica. Allora mi concentro su questo passaggio quindi su questi due punti in realtà c'è un'altra c'è una terza obiezione riferita a Marcuse al ruolo del negativo quella la lascio da parte perché non mi perco per lei secondo me è anche meno interessante ma la questione è appunto perché la tesi severiniana dell'ambiguità del linguaggio sacro dà un colpo mortale alla concezione ermeneutica dei Mancini se accompagnata appunto alla negazione della metafisica. Allora la tesi di Severino in soldoni è questa il linguaggio del sacro il linguaggio religioso è costitutivamente ambito il che significa che può essere deve essere decriptato diciamo così decifrato e lo può essere in due sensi se il linguaggio del sacro prende quello che Severino chiama il sentiero della notte cioè il sentiero della metafisica ovvero del nichilismo allora il linguaggio del sacro ovvero il linguaggio religioso è assurdità e non senso. Se invece prende il linguaggio appunto del prende il sentiero del giorno cioè prende il sentiero della verità dell'essere allora il linguaggio sacro diventa un problema cioè diventa qualcosa diciamo così che ha senso anche se ha un senso ancora una volta da decifrare. Ecco questo è il primo elemento di confronto con Mancini perché appunto Mancini non condivide la tesi dell'ambiguità del linguaggio sacro e non la condivide perché nella sua filosofia della religione sviluppa la tesi esattamente contraria. Filosofia della religione di Mancini è fortemente dipendente dalla teologia di Karl Barth questo grande teologo protestante e nel primo tomo dei dei collegomi della domatica ecclesiale Barth sviluppa una teoria diciamo così della parola di Dio enuncia una serie di proprietà di attributi guardo al Borto Gottes e fra questi attributi c'è appunto quello che Barth chiama della Geistigkeit cioè della intellettualità o della spiritualità della parola che cosa significa? Significa che secondo parte il linguaggio religioso ma qui in modo più significativo il linguaggio diciamo teologico la parola di Dio è un linguaggio che non è ambito è un linguaggio che comunica un senso ovvero è una vox significans reni questa tesi Mancini la riprende da Barth ma a sua volta la fa valere contro una certa caratterizzazione del linguaggio religioso come linguaggio espressivo cioè come linguaggio che dietro per così dire appunto alla parola nasconde la cosa per Mancini e per Barth il linguaggio del sacro ovvero il linguaggio religioso ovvero il linguaggio teologico è invece un linguaggio rivelativo questa distinzione tra linguaggio espressivo e linguaggio rivelativo è una distinzione di Parison di Mijiparison che appunto Mancini fa propria in questo in questo contesto e questo consente a Mancini di diciamo così costruire il modello della sua filosofia della religione che è un po' un modello appunto che assomiglia nell'Isse per cui abbiamo due fuochi da una parte appunto c'è la parola di Dio e il suo riconoscimento storico che appunto fondamentalmente è la fede è quello che possiamo chiamare che possiamo chiamare fede e dall'altra appunto c'è quella che Mancini chiama la precomprensione dottrinale o schema di possibilità metafisico che appunto connette questi due elementi cioè da una parte appunto abbiamo la fede che si relaziona per così dire alla parola di Dio ovvero al linguaggio religioso ed esprime appunto la forma del riconoscimento storico del senso che questa parola veicola e però appunto questo 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 elemento non può essere nella filosofia della religione appunto unico adesso deve accompagnarsi l'elemento della metafisica e questo secondo una precisa concezione dell'ermeneutica che Mancini ha nella filosofia della religione che non è appunto una concezione diciamo così non è la concezione di Schleiermacher cioè l'idea appunto dell'ermeneutica come teoria elaborazione di canoni interpretativi riferiti alla scrittura non è neanche la concezione novecentesca dell'ermeneutica come filosofia prima ma è una teoria dell'ermeneutica che Mancini riprende da Diltai e che concepisce appunto l'ermeneutica come teoria del sapere storico allora l'ermeneutica di Mancini è essenzialmente come lui dice un capire un terzene pareggiato da una precomprensione allora il capire nella sua filosofia della religione è essenzialmente appunto l'intendere la parola di Dio e riconoscerla la precomprensione è appunto metafisica qual è la metafisica a cui Mancini pensa la metafisica a cui Mancini pensa è essenzialmente quella di Buntini nella filosofia della religione Mancini sviluppa direi così un argomento metafisico un unico argomento metafisico che è appunto l'argomento metafisico che Gustavo Buntadini ha presentato aveva presentato in uno scritto di qualche anno prima ha detto che la filosofia della religione di Mancini prima edizione nel 68 ebbene Mancini nel suo libro si riferisce appunto a Buntadini e in particolare allo scritto di Buntadini sull'aspetto dialettico della dimostrazione dell'esistenza di Dio nel 1965 dove già Buntadini integra alcuni elementi per così dire che gli venivano a confronto con Severino e l'argomento di Buntadini su cui adesso non intendo assolutamente soffermarmi ma che comunque direi così risulta dalla combinazione in un modo di vedere problematica tra il principio di permette e il cosiddetto principio di creazione questo è appunto poi il titolo anche del capitolo che Mancini dedica appunto in questa parte della sua filosofia della religione dicevo questo argomento comunque chiarisce in modo molto evidente qual è il significato di metafisica cioè fondamentalmente per Mancini così come per Buntadini metafisica significa trascendimento del mondo dell'esperienza in direzione dell'affermazione di una realtà assoluta e quindi quel significato di metafisica a cui appunto prima Carmelo accennava diciamo così fuori di metafora è l'argomento che consente o consentirebbe l'affermazione dell'esistenza di Dio cioè di quello che nel linguaggio religioso noi chiamiamo Dio ma che nel linguaggio filosofico possiamo benissimo chiamare assoluto causa prima atto puro quello che o quello o quello che vuole quindi il significato di metafisica è un significato almeno in questo contesto per Mancini molto affine direi a quello di teologia razionale o di teologia naturale cioè metafisica significa il complesso direi così di argomenti ma qui ripeto un unico argomento considerato almeno da Bontadini incontrovertibile quindi migliore di altri argomenti che è possibile trovare o formulare che consente appunto l'affermazione di un essere trascendente Mancini riprende di peso devo dire lo scritto di Bontadini non apporta in questo contesto alcuna variazione in scritti precedenti Mancini aveva tentato secondo me anche con successo credo forse Carmelo Vigni appunto che ha scritto anche su questo tema sarà d'accordo di diciamo introdurre elementi di differenziazione ecco la funzione del giudizio la fenomenologia del negativo ma insomma in questo contesto invece Bontadini è completamente d'accordo con Bontadini ed è direi completamente d'accordo con Bontadini proprio come dire profilando chiaramente l'alternativa nei confronti di quello che senza nominarlo in un paragrafo precedente appunto Mancini chiama il parmenidismo esagerato ecco il parmenidismo esagerato è proprio Severino diciamo proprio l'interpretazione appunto di parmenide che dà Severino ora in modo più specifico ecco qua l'elemento della metafisica la critica di Mancini è che appunto Severino nonostante operi questa equiparazione tra metafisica e nichilismo in realtà non riesce a superare la metafisica in questo senso perché anche per Severino rimane per così dire la disequazione tra apparire ed essere c'è un passaggio molto secondo me molto significativo in cui appunto Mancini scrive cito previssimamente se l'apparire fosse sempre l'essere in tutta la sua estensione il sipario sarebbe alzato sempre via il te e tutto via il diventino l'apparire è dunque antagonista e in questo implica un principio di limitazione che non può ridursi all'essere come il te cioè sostanzialmente secondo Mancini Severino non riesce a schiacciare per così dire la dimensione dell'esserci quella dell'apparire e quindi è costretta volente e dolente a riaffermare quella che Mancini chiama una dualità o ha persino un dualità ecco allora vedete diciamo così queste due critiche a Severino rappresentano due elementi fondamentali che poi come dire costituiscono il combinato disposto della filosofia della religione di Mancini perché Mancini critica Severino per la teoria dell'ambiguità del linguaggio sacro e contrappone a questa invece quella che lui chiama la naturale appunto conseguenzialità tra logo e cosa e dall'altra rimprovera a Severino fondamentalmente di non riuscire nell'operazione di schiacciare la trascendenza dell'immanenza Severino ha replicato queste due critiche però come appunto quelli che conoscono il pensiero di Severino meglio di me sanno molto bene come dire Severino è un po' un muro di gomma direi così diciamo le critiche che gli venivano avanzate sono direi quasi in modo meccanico respinte come ha replicato appunto Severino all'obiezione di Mancini all'obiezione di dualismo ha replicato affermando che appunto ecco è legittimo parlare o è corretto parlare di dualismo metafisico afferma Severino se ci si riferisce alla differenza cito tra l'apparire che tuttavia è in mente e l'essere ossia la totalità degli enti ma questa direi così terminologia cioè dualismo quindi l'inviazione fondata su questa terminologia non è appunto corretta se invece l'obiezione è riferita all'autentico tratto caratterizzante il pensiero metafisico cioè il nichilismo ossia la persuasione che lente sia niente e questo è evidentemente il senso di metafisica il significato di metafisica che vale per Severino quindi fondamentalmente Severino che cosa replica replica che quella che per Mancini è una trascendenza del tipo ontologico cioè non tutto diciamo così l'apparire è essere quindi l'essere qualcosa di diverso dall'apparire è in realtà per Severino una trascendenza del tipo episterio cioè è una trascendenza nel senso che appunto non tutto lente non è la totalità degli enti che appare ma quella è però nel senso appunto in cui Severino intende che sia cioè è eternamente d'accordo? Io credo che a questo livello effettivamente sono perfettamente d'accordo con quello che diceva prima Carmelo Vigni Carmelo Vigni a questo livello il dissidio sia incomponibile cioè il dissidio sia quello tra fondamentalmente una posizione quella di Mancini e quella di Bontadini che afferma l'esistenza e la natura di Dio come trascendente rispetto al mondo che si possono fare tante considerazioni ma insomma diciamola così in modo un po' banale e invece una concezione quella di Severino che io francamente potrei definire diciamo così panteistica avrebbe accettato Severino una definizione del genere allora Nicolò Tarquini usa a un certo punto nella conclusione del suo libro una litote cioè dice Severino era un non teista ok cosa significa non teista cioè detto positivamente che cos'è appunto Severino io direi un eternalista panteista oppure un panteista eternalista diciamo così io lo qualificherei in questo senso cioè non è un teista non è un ateo in un certo senso anche qui si può discutere ma insomma diciamo ecco io trovo che fondamentalmente quella sia la categoria dentro a questo livello dire così secondo me non ci sono margini ecco di intesa qui se volessimo richiamare una famosa espressione di Bottadini ok insomma gli amici colleghi conoscono meglio di me ci muoviamo a livello delle differenze antropologiche così dire una volta esplicitate quelle che sono i posizionamenti come dire di fondo appunto rimangono diciamo delle differenze antropologiche che non sono sostenibili l'altra critica appunto quella del linguaggio anche questa è respinta da Severino Severino fondamentalmente dice che appunto Mancini non ha prodotto alcuna dimostrazione della implicazione necessaria tra parola e logo sicché appunto il collegamento tra parola e logo e tra parola e cosa sicché questo collegamento rimane appunto oggetto di convenzione ovvero di volontà devo dire che Mancini poi in quella breve replica di qualche anno dopo è in parte devo dire ripiegato nei confronti di questa concezione ma come vedete anche questa replica da parte di Severino direi non ha lasciato spazio per molti sviluppi vengo alla conclusione ho promesso un altro aneddoto l'aneddoto è questo qualche allievo di Mancini più anziano di me mi ha riferito che Mancini era solito ricordare a quelli che glielo chiedevano e cioè sul perché non avesse preso posizione contro Severino e perché non lo avesse fatto nonostante sembra le ripetute insistenze da parte di Bontadini a farlo ebbene a questa appunto a queste richieste Mancini non ha non ha replicato perché rispondeva ripeto riporto diciamo testimonianze in modo indiretto che se avesse dovuto scrivere contro Severino avrebbe dovuto scrivere contro Bontadini allora se questa testimonianza fosse vera devo dire che noi troveremmo un elemento di comunanza tra Italo Mancini e Cornelio Fabro difficile trovarne però forse su questo si potevano intendere sapete che appunto Cornelio Fabro riteneva che tutto sommato diciamo così la radice del male che è possibile trovare in Severino la si dovesse andare a ritrovare in Bontadini cioè in qualche modo diciamo così l'allievo se l'allievo aveva potuto dire qualcosa di così esorbitante direi così e in parte era perché nella scuola dove era cresciuto c'era qualcuno che aveva lasciato intendere che una cosa del genere si potesse anche lascio qui la suggestione ho maturato nel frattempo qualche idea su questo punto ma mi astengo da dirla propongo invece qui una lettura alternativa cioè perché Mancini non è non ha diciamo preso opposizione contro segreto e qui veramente chiudo le motivazioni sono secondo me due una di alta cucina accademica e una di bassa cucina accademica in Italia bisogna sempre diciamo così tenerle assieme queste due dimensioni l'alta cucina accademica e la bassa cucina accademica allora l'alta cucina accademica è questa Mancini dopo il 1968 che è una data per così dire epocale ha perso un po' di interesse per la metafisica questo è abbastanza chiaro diciamo così nel suo percorso successivo diciamo riferimento alla metafisica che si va sempre più tenue rimane ancora rimane ancora in una forma direi così che è kantiana prevalentemente kantiana cioè la metafisica è così manifesta l'aspirazione dell'essere umano la conoscenza della totalità eccetera eccetera però non c'è quel significato di metafisica nel senso di dimostrazione di inferenza appunto che permette e quindi io credo che fondamentalmente il fatto che Mancini non abbia replicato direi non abbiano continuato in questa lunga polemica appunto che è arrivata fino a noi arriva fino a noi sia di peso fondamentalmente ma è motivazione la motivazione questa è la motivazione di alta cucina accademica la motivazione di bassa cucina accademica invece è un'altra e che Mancini e questo lo dico perché in occasione in questa occasione diciamo previsione di questo incontro sono andato a leggere una parte dell'epistolario di Mancini che noi conserviamo per l'Urbino ci sono anche alcune missive tra Severino e Mancini sono missive molto brevi non hanno un grande interesse teoretico ma hanno un grande interesse per quanto riguarda le questioni concorsuali e allora diciamo seconda metà degli anni 60 primi anni 70 Mancini era sotto concorso e Severino no Severino era in quelli che dovevano ridicare e allora in alcune lettere Mancini chiedeva diciamo così in qualche modo un spoggio un sostegno e io mi permetto qui con la malignità diciamo che è tipica di noi toscani di sostenere diciamo così che appunto accanto alle altre motivazioni accademiche ce ne fosse anche qualcuna meno alta ma appunto ugualmente importante certamente però su questo e sul resto ecco mi rimetto diciamo all'opinione soprattutto del professor Vigna che sia di altre che di basse questioni accademiche si intende molto e ringrazio ancora arrivederci ti arrivo grazie ringrazio il professor per questa bella ricostruzione teorica ma anche attiva che ci ha fatto rivedere questi partimaggi e invito se possibile a uno switch di posto per motivi di vogliamo intervenire allora se il professor Bettineschi eccolo lì lo vedo è collegato allora io darei a lui la parola il professor Bettineschi intanto lo ringraziamo ecco per essere qua seppur da remoto ed è proprio il direttore della collana che appunto ospita il testo di cui stiamo discutendo di Niccolò Tarquini vorrei insegnare all'università di Messina lui è autore di tantissime cose è professore ordinario di filosofia teoretica ecco se potesse anche lui dire qualcosa sia sul testo ma anche qualche parola sulla collana perché è una bellissima collana di filosofia italiana una delle poche credo che abbiamo perché noi italiani abbiamo un po' questo vizio a volte che valorizziamo tante cose anche in filosofia autori teorie linee di pensiero magari importantissime europee extraeuropee e poi a volte invece tralasciamo ecco di occuparci della filosofia italiana che invece ha una valenza enorme e questo lo dico ecco da storica della filosofia quindi adesso passo a lui la parola e lo ringrazio grazie grazie ma grazie a voi grazie agli colleghi e agli amici che hanno già parlato io mi aspettavo per la verità di parlare per ultimo ecco è una cosa scomoda ma anche appetibile perché ricordiamoci che Platone fa parlare Socrate per ultimo nel simposio ma in maniera tale che così Socrate abbia la parola conclusiva allora io vengo adesso un po' prima ma userò di quelle poche cose che mi propongo di dire alla fine anche per fare qualche domanda per rivolgere qualche domanda rispetto alle quali mi sarebbe piaciuto sentirmi piacerebbe sentire le risposte che sia Niccolò Tarquin e Leonardo Messinese avranno voglia di dare a queste mie osservazioni subito dopo i ringraziamenti fate anche a me mettere anzitutto davanti a chi ci ascolta l'elogio per quest'opera che ci troviamo in qualche modo a presentare a commentare oggi io penso seriamente che questo libro di Niccolò Tarquini sarà un libro che rimarrà cioè entrerà sicuramente a far parte come un'opera imprescindibile per gli studi che riguardano e la storia della filosofia italiana degli ultimi cent'anni quindi di tutto il novecento e anche negli anni dieci venti del nuovo millennio e anche ovviamente un'opera che non potrà essere tralasciata da chi vorrà occuparsi in maniera seria e fondamentale di questioni di metafisica e di ontologia fondamentale sia per chi viene direttamente appartiene direttamente alla tradizione classica o neoclassica della riflessione metafisica ma anche per chi avendo alle spalle una tradizione meno lunga e forse anche meno venerabile vorrà cominciare a occuparsi di queste tematiche per avere attraverso le pagine che il libro di Nicolò ci presenta una ricostruzione davvero fuori dell'ordinario per perizia per precisione devo dire anche per completezza e poi anche per acume teoretico che viene dimostrato devo dire dall'inizio alla fine dell'oper questo lo dico da amico di Nicolò Tarquini e anche nelle vesti che sono state ricordate in qualche modo quindi di responsabile di questa collana che si prese e si onora adesso di ospitare anche quest'opera nello spazio tutto sommato limitato che abbiamo a disposizione però vorrei usare di questo tempo per rendere omaggio a quell'acume teoretico che nelle pagine di Nicolò si trova e che come diceva prima il professore Avuti fanno fortunati quei studenti per la possibilità che hanno di avere un maestro un docente di questo calibro allora non ripeterò cose che anche io sottoscrivo e che sono state dette da chi mi ha preceduto la parola Avuti di me soprattutto prima mi prenderò ecco la libertà un po' col privilegio di riprendere alcune delle obiezioni che Nicolò Tarquini muove alle mie modeste a loro volta obiezioni al pensiero severimiano e al tentativo che anche può essere fatto di usare diciamo così la seconda parte della speculazione severiniana per fondare in maniera rigorosa una metafisica di tipo teologico o trascendente nella generosità storica interpretativa dell'autore di questo libro in qualche maniera anche le mie modeste osservazioni sono filologicamente riprese in maniera impeccabile ma come teoretico qui facevo prima riferimento di Nicolò non si limita ovviamente a ricostruire l'obiezione prova e qui è la parte forse più interessante succolenta quella che destra maggiore attenzione in un volume prova anche a dire la sua in proposito a buona parte delle obiezioni che vengono rivolte direttamente a Severino in qualche maniera anche alla proposta filosofica di Messinesi ecco se per il momento ci rimettiamo solo a Severino Nicolò perfettamente dice che le mie maggiori perplessità si concentrano attorno a quella che è la natura diciamo così della determinatezza in quanto determinatezza di ogni cosa che diciamo essere determinata in quanto determinata da un punto di vista mio ma non solo mio il determinato è qualcosa di finito e la cosa finita per necessità analitica è qualcosa che finisce a un inizio e a una finita questo tipo di rilievo da se solo a me sembrerebbe sufficiente a mettere in crisi la parte post 64 della riflessione severiniana l'osservazione che Nicolò l'osservazione critica che Nicolò muove a questi miei rilievi e invece consiste se dico bene nel dire nel richiamare come dire l'attenzione a non sovrapporre due significati differenti dell'essere determinato dell'essere finito ci sarebbe un senso un significato dell'essere determinate delle cose dell'essere finite che si deve rispettare che anche nella prospettiva dell'autore del libro deve essere riconosciuto e mantenuto è un senso che io sovrapporrei a quest'altro secondo cui invece non si potrebbe dire secondo una legittimità di ragione o logica che le cose trovano una fine il senso legittimo sarebbe quello di una limitatezza diciamo così perché anche Nicolò usa di questa metafora spaziale per cui il senso spaziale le cose hanno dei limiti hanno un inizio hanno una fine hanno quindi una determinatezza che le individua finitamente e questo dovrebbe essere mantenuto invece dice Nicolò in senso temporale questo tipo di determinatezza questo tipo di finitezza sarebbe tutto da discutere perché se assumiamo la parte del discorso severiniano post per ritornare a Parmenide post 64 non si potrebbe dire più secondo ragione che le cose determinate finite trovano una fine anche in senso temporale qualora trovasse una fine anche in senso temporale mi pare di cogliere così l'obiezione di Nicolò e non potrebbero più essere considerate tutte le cose delle cose eterne se le cose determinate a cui pure secondo l'obiezione si può riconoscere una fintezza spaziale trovassero una finitezza anche in senso temporale il pan eternalismo severiniano l'idea che tutto è eterno che ogni ente è eterno troverebbe una contraddizione esplicita e allora delle due luna o sta in piedi il pan eternalismo o sta in piedi l'eternità riferita a tutte le cose oppure sta in piedi e rimane come cosa da sottoscrivere da riconoscere una finitezza delle cose che assume una valenza e un significato anche temporale allora l'invito critico di Niccolò è distinguiamo fra finitezza e finitezza distinguiamo fra non essere e non essere fra alterità e alterità questo tipo di distinzione secondo lui se ben intendo ci consentirebbe di dire che con Severino ogni cosa è e non può non essere nonostante una determinatezza che la fenomenologia immediata delle cose ci presenta per cui io distingo la bottiglia dal bicchiere Andrea Guti da Leonardo Massinese me da te il tavolo dalla sedia eccetera 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 la distinzione dovrebbe essere mantenuta ma non si potrebbe dire che questo tipo di determinatezza che ci fa differenti gli uni dagli altri quindi che fa di noi ognuno l'altro dell'altro è qualcosa che implica anche la nostra finitezza temporale ecco qui si trovano le mie maggiori perplessità o per dirla fuori dalla lingua insomma qui devo dire ancora che ho qualcosa da da obiettare a questo tipo di rilievo critico di Niccolò tranquilli e perché rimangono perplessità perché mantengo salda la mia obiezione per una serie di motivi comincio in maniera un po' randomica dal primo che mi viene in mente e il primo motivo che mi viene in mente è un motivo che ancora mi è suggerito proprio da i testi severiniani quindi mi trovo un po' a fare come Perseo contro Medusa che usa un poco dell'immagine riflessa per vincere l'avversario e cosa c'è da dire allora c'è da dire questo che se noi distinguiamo un'alterità relativa da un'alterità assoluta un non essere relativo da un non essere assoluto una finitezza spaziale da una finitezza temporale bene possiamo anche operare questo tipo di distinzione ma si tratta però di capire questa differenza sulla base di quale identità di fondo si pone cioè distinguiamo un'alterità relativa e un'assoluta ma qual è il senso dell'alterità che si pone al fondo di questa differenziazione distinguiamo un finire in senso relativo e un finire in senso assoluto ammesso non concesso che questo possa essere fatto chiedo qual è il senso identico dell'essere finito che troviamo alla base di questa differenziazione che ci fa per l'ipotesi che stiamo considerando indicare due diversi sensi della finitezza il non essere di cui Severino dice che è impossibile predicarlo di ogni cosa se lo vogliamo pensare in senso soltanto relativo e non assoluto di nuovo ammettiamo che la cosa la distinzione abbia una sua legittimità ma se operiamo nella distinzione si tratta di indicare quell'identità comune alle differenziazioni e alle distinzioni che si pongono e allora chiedo qual è il senso del non essere che si pone al fondo di queste distinzioni se Severino se noi adesso dicessimo che ogni cosa ogni ente è se stesso e non può essere e non può non essere se stesso non può essere altro da sé e questa tesi la sottoscriverebbe qualsiasi metafisico classico il problema invece è manier proporla questa tesi senza quell'aggiunta che facevo cioè il problema è dire che ogni ente è e non può non essere sic et simplicite la prima versione della cosa è la versione aristotelica è la versione aristotelica che nel libro quarto della metafisica insegna che le cose sono incontraddittorie in quanto sono sé stesse e non sono altro da quello che loro stesse sono ma nell'essersè delle cose determinate che ci troviamo di fronte noi troviamo il limite noi troviamo la finitezza e questo limite questa finitezza questo non essere bene è spaziale per le cose che diciamo spaziali è temporale per le cose che diciamo temporali se vogliamo farci suggestionare dalla fisica Einsteiniana del novecento potremmo cogliere l'invito e pensare tutte le cose in termini tetra o quadridimensionali le cose stanno nello spazio tempo il tempo il tempo è un'ulteriore determinazione che si aggiunge che si aggiunge all'esperienza che noi facciamo delle cose determinate per cui determinate la bottiglia nei confronti del bicchiere che è altro da lei determinato è il professor Aguti in confronto al professor Messinese che è altro da lui ma determinato è anche la mia infanzia rispetto alla mia maturità l'estate del 93 rispetto a quella del 2023 e queste cose si distinguono fra di loro sì o no pongo la domanda in termini retorici bene se si distinguono perché ognuna di loro è altra dal suo altro ognuna di queste cose sconta essendo dei limiti ontologici spazio-temporali se vogliamo dire così ma le cose valgono anche per i concetti e per cui l'affermazione non è la negazione il positivo non è il negativo ogni cosa se ne sta all'interno di limiti ontologici suoi che decretano la sua finitezza il pensiero occidentale in fondo si apre con questo rilievo incontestabile Anassimandro quando ci lascia le prime parole con cui vive la filosofia occidentale ci dice questo e dicendoci questo noi io penso dovremmo essere portati a riconoscere che in fondo quella cosa che chiamiamo tempo non è null'altro che l'esperienza progressiva che noi facciamo delle cose ma le cose di cui facciamo esperienza ci appaiono in forma determinata cioè ci appaiono secondo l'essere loro secondo la determinatezza che è loro proprio e le cose di cui facciamo esperienza in termini progressivi appaiono determinatamente ossia finitamente cioè il loro apparire è un apparire finito e allora il tempo cos'è il tempo inteso come esperienza progressiva delle cose che appaiono secondo la loro determinatezza e quindi secondo la loro finitezza il tempo non è nient'altro che l'apparire finito delle cose finite riprendo in questo senso quello che ci ricordava Carmelo Vigna prima e che stava anche nella parte più forte dell'obiezione che da metafisico classico Bontadini ancora alla fine della sua età dei suoi giorni muoveva a Severini e questa cosa curiosamente balena come un'illuminazione a me pare anche in alcuni in alcuni passaggi brevi ma che non si possono tralasciare delle pagine Severiniane del 2015 mi riferisco a un passaggio di Dike che cito quasi alla lettera ma è importante ricordarlo in questo contesto quindi datemi ancora un attimo dice Severino siamo all'interno di quel testo pubblicato per Adelfi nel 2015 che si chiama Dike dice Severino che ogni essente non può essere in ogni tempo quando Severino dice che ogni essente non può essere in ogni tempo con questa affermazione lui precisa intende dire che gli essenti che sono in un certo tempo non possono essere apparire all'interno di dice lui un cert'altro tempo nello stesso modo in cui gli essenti di questo cert'altro tempo sono e appaiono in esso cioè ogni cosa ha un suo tempo la sapienza biblica dell'Ecclesiaste in qualche maniera risuona qua ogni cosa ha un suo tempo il tempo non è nient'altro che un'altra determinazione che fa l'identità relazionale delle cose anche all'interno della prospettiva Severiniano ma se il tempo non può riferirsi in maniera identica a ogni cosa e se ogni cosa per la determinatezza che ha non può abitare identicamente ogni tempo e allora Severino stesso ammette che le cose non sono e non appaiono allo stesso modo in maniera eterna cioè senza limitazioni all'essere loro senza delle limitazioni che appartengono al loro apparire alla loro manifestazione ma se questo viene concesso Severino in questo passaggio di quel libro del 2015 praticamente dà ragione a chi contesta il suo paneternalismo o il suo neoparamilismo se vogliamo dire così mi sembra mi sembra un'ammissione che squarcia davvero il velo e porta a gallo al fatto che probabilmente io sono convinto c'è un equivoco di fondo che sannida sotto il concetto dell'eternità praticato da Severino se eternità significa l'impossibilità di non essere l'eternità è un concetto che non può sposarsi o applicarsi alle cose che sono cose determinate ossia finite qualsiasi sia il tempo o il modo della determinatezza e della limitatezza loro spaziale temporale spazio temporale concettuale comunque si voglia dire se invece l'eternità significa l'impossibilità di trovare nel nulla una specie di buco nero che attivamente vivori le cose beh anche qui questo tipo di rilievo è un rilievo equivoco perché non va a toccare l'essenza più genuina e autentica della metafisica classica laddove il metafisico classico non pensa che il nulla sia una potenza attiva che divora come la ruggine o la cancrena la sostanza ontologica delle cose è il positivo non è il nulla è il positivo che limita è l'altro da me che mi limita e a volte questa limitatezza è una limitatezza sciagurata quando il positivo che mi limita si chiama dolore si chiama frustrazione si chiama malattia si chiama cosa indesiderata ma a volte il positivo che mi limita e che si accompagna a me come l'altro da me è anche qualcosa di buono è qualcosa che mi fa gioire è qualcosa di inatteso ma che mi lascia mi lascia felicemente sorpreso grazie a Dio grazie al cielo abbiamo anche a che fare con un ordine di cose che il tempo porta un'esistenza del tempo un insistere del tempo che ci porta però altre situazioni altra positività che è una buona positività e che magari è anche la risoluzione del negativo precedente viva Dio che anche questo si dà quindi il problema del nulla che divora è un falso problema se posso usare di questa di questa espressione un po' un po' un po' un po' etero marxista è un falso problema nel senso che il metafisico seriamente non lo pensa così nulla quello che noi chiamiamo divenire se detto in termini linguistici un po' più rigorosi dovrebbe essere io credo inteso come il finire dei finiti cioè come il limite che tutte le cose determinate quindi finite spazio temporalmente intese trovano quando entrano in rapporto ma che poi è un rapporto necessario con la propria alterità e questo decreta l'impossibilità di essere eterni nel senso di estendere la propria esistenza e la propria essenza senza lui e altrimenti qui l'univocismo e il monismo ontologico dovrebbe avere ragione di tutto ma così non è per il solo fatto che noi distinguiamo un affermare un negare un'esistenza mia che dico mia quando mi trovo a pensare da un'esistenza tua eccetera eccetera quindi le mie obiezioni ancora attorno a questa questione si concentrano e mi pare una cosa che è stata richiamata prima da Vigna da lui l'ho appresa si trova nelle osservazioni critiche migliori di Bontadini che non sono quelle che si fanno in qualche maniera a condizionare verso la fine da un certo univocismo un certo intendimento dell'essere univoco vedi anche equivoco che corrompe parte della bontà delle osservazioni finali di Bontadini penso in particolare per una teoria del fondamento ecco e quindi con questi rilievi concludo diciamo così sono rilievi critici ovviamente ma in risposta alle osservazioni critiche dico tanto autore dico tanto interlocutore che ringrazio senza sé senza ma vorrei dire infinitamente e immediatamente per l'onore che anche mi ha fatto considerando una parte buona e considerevole di quelle che sono le mie perplessità relative al magistero severignano che comunque per me insomma non toglie nulla alla enormità di questo pensatore enormità di questo pensatore che colloca non solo lui ma anche la tradizione della speculazione diciamo così metafisica neoclassica italiana è davvero ai vertici di quello che si può trovare in giro se noi stiamo a guardare la riflessione filosofica del novecento e anche di questi due decenni buoni che ormai sono entrati nel terzo millennio per cui complimenti ancora vivissimi a Nicolò Tarquini però ecco mi piacerebbe che verso la fine si potesse discutere un poco anche di queste questioni per onorare il calibro e lo spessore non solo storico ma anche teoretico delle sue pagine grazie 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 al professor Bettineschi e ora è il momento del professor Leonardo Messinese che prego di avvicinarsi per motivi di audio grazie dobbiamo passare a ingreppirci volte ma non posso perché altrimenti non la serve ecco qua ecco qua così ci vedono entrambi io presento il professor Leonardo Messinese che è ordinario di metafisica presso l'università pontificia lateranense di Roma e non si occupa solo di quello che sarebbe la filosofia teoretica ma anche di storia della filosofia moderna e contemporanea la sua prima monografia era proprio sul pensiero di Emanuele Severino ne sono seguite innumerevoli altre cito anche per lui solo un testo il problema di Dio nella filosofia moderna che ha pubblicato a Roma nel 2001 e che poi è stato tradotto in inglese in tedesco e quindi ha avuto un'enorme diffusione oltre a studiare Severino e altri pensatori contemporanei Heidegger e Aspers vorrei sottolineare ecco questa è una cosa mia personale i suoi studi su Maren Mersenne un frate minore operativo in Francia a Parigi nella prima metà del seicento che di solito si studia perché è colui che mette insieme e fa dialogare gli intellettuali dell'epoca per teso e oros per esempio ma raramente si studia per il suo diciamo così pensiero vero ecco e questo ha fatto il professor messinese ed è una cosa per cui ci siamo grati ora passo a lui la parola perché appunto ci illustri questo testo di cui ha curato la prefazione aspettiamo solo un secondo passo a lui la parola ecco grazie ringrazio per l'invito credo che vorrò distribuire il tempo che rimane con i coro in modo di evitare che succeda a lui quello che è successo in una precedente presentazione quando si è lasciato le bricio non so in totale quanto tempo abbiamo ma certamente occuperò in ogni caso meno tempo possiamo restare ecco le sollecitazioni insomma che sono venute oltre a quelle ultime di Paolo Bettineschi quale si è soffermato in modo molto accurato ma anche molto chiaro sul senso di alcune subiezioni di fondo a Serino e sul ritorno che ne ha fatto rispetto alle osservazioni di Nicro dedicate due suoi testi chiederebbero un tempo che ovviamente non può essere concesso volendo dare conto non soltanto in qualche modo degli altri interventi ma anche del libro innanzitutto ecco soprattutto per chi non abbia avuto ancora modo di prenderlo direttamente nelle mani e vorrei partire proprio da questo per insomma indicare qualche altro elemento in più che riguarda direttamente il libro io nella prefazione insomma ho a un certo punto detto che soprattutto chi si occupa di studi severiniani potrebbe avere l'impressione di trovarsi in anzi un libro in cui ci si attarda su temi filosofici e soprattutto su interlocutori che hanno fatto il loro tempo soprattutto se ci riferiamo agli anni 60 che insomma costituiscono l'oggetto più ampio delle riflessioni di Nicolò Tarquini cioè la discussione avvenuta tra Severino e molti importanti interlocutori e poi certo una discussione che con alcuni di questi è continuata nel tempo ma appunto a partire da una problematica che riguardava fondamentalmente la metafisica classica infatti è stato opportuno che nel sottotitolo non si dica soltanto Emanuele Severino e la metafisica ma si dica da subito come riferimento agli interlocutori metafisici classici innanzitutto di quella importante stagione filosofica italiana e anche di quelli che lungo questa medesima linea di fondo si sono occupati di Severino e direi che lo stesso titolo Eternità e Divenire fa riferimento al modo in cui la questione severiniana ma potremmo dire senz'altro per il nostro tema severiniano o puntadiniano era stata presa in esame in quegli anni perché perché dico questo perché sia a motivo del fatto che Severino negli anni 80 ha insistito sulla tematizzazione dell'ente dell'eternità dell'ente certo tema dell'eternità dell'ente che appartiene alla fase precedente ma che era inteso alla luce del tema dell'eternità dell'essere e come l'imbalzo vorrei dire diveniva poi il tema dell'eternità degli enti ecco successivamente avendo messo in risalto il tema dell'eternità degli enti non ovviamente separandola perché il fondamento era sempre quello ma venuto in luce in proprio piano questo allora la questione fondamentale per Severino e anche per molti dei suoi interrogatori diciamo successivi è stata quella della identità identità degli enti è una una sorta di eco vorrei dire di questo che di questo passaggio mi sembra di riscontrare anche nella tipologia di osservazioni disegnando appunto questo contesto che ha fatto Paolo Bettineschi ora già sempre un tema importante di discussione vedere la relazione tra questa questa duplice coppia concettuale cioè quella che è sullo sfondo e che occupa pienamente lo spazio del libro di di Grotter Quini cioè eternità e divenire e l'altra coppia identità degli enti e come affermare insieme le differenze identità quindi e differenza e identità e differenze credo che uno studio sul pensiero di Selerino che riprendesse l'intero suo pensiero ma focalizzandosi su queste due grandi direttrici sarebbe interessante per vedere anche come questo tema dell'eternità dell'ente è stato declinato perché certo se noi ci soffermiamo sull'affermazione o niente è eterno e la prendiamo così com'è ma senza considerarla in tantissimi addentellati è chiaro che alcune problematiche che possono essere sottoposte a questo pensiero inizialmente possono far fatica a presentarsi effettivamente come delle compiezioni ora il tema di fondo che credo si debba riconoscere questo libro è non tanto di insomma per così dire battezzare battezzare anche il secondo Severino sembra che il primo Severino o per quanto è uguale al primo Severino se sto ad esempio con la separazione ed l'amico professor Vigna siano confermate si è detto il Severino dico per chi si occupa di queste cose della struttura originaria quello sì insomma certamente è un Severino che resta nella tradizione della metafisica classica o neoclassica se facciamo un riferimento più specifico al maestro di Severino cioè Gustavo Bontadini tutto l'altro tutto l'altro è da insomma se dobbiamo usare un termine molto transciano da prendere e insomma considerare da mettere completamente da parte si può intuire come io non sia di questo avviso che non significa battezzare il Severino ma significa vedere in quali punti le sue osservazioni critiche la sua parsedestres vuol dire non solo della metafisica classica ma soprattutto di quella neoclassica di Montedini possano essere tenuti in considerazione non tanto per sposare una metafisica in cui tutti i denti sono eterni ma detta così sembrerebbe che tutti i denti sono sullo stesso piano altrimenti allora verrebbe molto facile l'osservazione come anche il Severino persista una differenza e se persiste questa differenza ad esempio per avesse luce da Ita Romancini ma non soltanto da lui perché quel tipo di osservazione in qualche modo critica di Mancini era stata fatta già da Montedini nel ricordato saggio Sosentà Fenomena dove la questione per Montedini non era tanto quella di verificare se in quel nuovo Severino siamo appena all'inizio del nuovo Severino quello di ritornare a Parmenide vi fosse una affermazione di manutismo non era questa l'obiezione fondamentale di Montedini era quella di dire caro Severino tu in qualche modo stai ritornando alla posizione di Parmenide una posizione che per un verso non puoi accettare perché anche tu non accetti come Parmenide che il divenire sia illusorio e però proprio in quanto non accetti questo Parmenide quindi affermi il divenire affermi la dimensione di ciò che si manifesta nell'esperienza come affermazione di realtà e non di illusione poi tu resti in una affermazione di dualismo perché accosti semplicemente l'essere diveniente l'essere immutabile ma non mostri una relazione tale che la duplice affermazione perda il carattere del dualismo cosa che per la metafisica non può stare in piedi perché la metafisica vuole dare indicazioni della totalità dell'essere nel modo in cui questa totalità può essere affermata cioè mantenendo una differenza tra due dimensioni ma in modo tale ripeto che la differenza non si converte in dualismo ebbene rispetto a questo Pontellini riproponeva e incominciava a riformulare tenendo conto di alcune impressioni sereniane la sua metafisica neoclassica radicandola ancora più fortemente una metafisica della creazione ora questo tema della metafisica come metafisica della creazione e sto parlando adesso di Pontellini non è qualcosa che costituisca per lo stesso Pontellini una sorta di coronario come dire che una metafisica della trascendenza può essere affermata deve essere affermata nonostante l'obiezione di di Sereino al modo in cui la trascendenza è affermata nella metafisica classica e poi possiamo anche giungere a dire del trascendente che è creatore se dovessi dirla in modo anche qui molto trascendente in qualche modo ma questo in qualche modo che dipendo insomma la tomato significa che dovremmo poi fare delle precisazioni ulteriori in qualche modo era la posizione precedente di Pontellini dove si affermava prima il momento che lui chiamava Pontellini platonico della metafisica quindi la creazione del trascendente e poi il momento diciamo in cui affermando nel modo dovuto la relazione tra il diveniente e il trascendente che era affermato trascendente proprio in quanto immutabile si affermava il rapporto di creazione ora Pontellini potrei dire si farà quasi non dico un vanto ma indicherà come come forza della propria posizione metafisica il fatto di sottolineare la dimensione della creazione perché non soltanto per affermare ma che appunto il rapporto tra clienti e il trascendente è un rapporto di creazione ma per dire che il trascendente se si intende affermarlo rigorosamente può essere affermato in quanto creatore e perché perché proprio affermando il rapporto di creazione possiamo noi rispondere all'obiezione severiniana secondo la quale l'affermazione del diveniente non può essere tenuta insieme con l'affermazione dell'immutabile certo che Severino afferma la finitezza degli enti e l'afferma anche secondo la dimensione come richiamata della temporalità la questione e che credo si possa dire che se in alcuni testi questo è detto più explicitamente come ad esempio nel testo di Dic che prima ha giustamente ricordato ma il problema per Severino è di affermare che cosa significa il tempo qual è il significato di tempo se sia il significato ordinario o se questo significato sia altro e soprattutto se tutta la serie delle categorie che noi introduciamo e giustamente introduciamo perché altrimenti resteremo semplicemente con l'affermazione ripetitiva quasi l'organetto di cui parlava Nietzsche per cui ho niente eterno come se questo fosse sufficiente per lo stesso Severino a dire delle cose a dire riguardo a delle cose certo che poi c'è una progressione di una categoria ma questa è una questione per Severino vedere come si procede in queste categorie peraltro era questa la stessa strategia di Aristotele quando Aristotele esamina divenire introducendo i concetti appunto li introduceva teoreticamente cioè giustificava deduceva questi concetti e in qualche modo questo resta anche il lavoro per Severino come era stato anche per Benedini la questione dunque diventa qual è la modalità il filo conduttore il criterio essenziale perché si possa procedere in questa progressione delle categorie ora si può discutere naturalmente si deve discutere se la modalità severiniana non presenti qualche elemento discutibile in relazione al modo in cui riprocede però ritengo che si debba per tanto dire come non ci si possa riferire a questa posizione schiacciandola su questa tesi non perché non ci sia questa tesi ma perché questa tesi deve essere ricompresa una prospettiva molto più ampia e noi qui questa mattina tipo del tema del testo che stiamo discutendo che è dato origine alla nostra discussione dobbiamo limitarci a discutere di questa tesi o a pensare a questa tesi riferimento alla dimensione metafisica ma poi cosa che non riguarda il testo se mi fa dei cenni per dire che adesso non è possibile insomma indicare il discorso se lo eliminiamo deve essere continuato a essere letto alla luce di certi che a mano a mano si allargano dove questa tesi dell'eternità di lente viene a investire esattamente quella ampia porzione di significati della realtà che giustamente si può comprendere come inizialmente si dicesse Severino ma insomma tutto questo questa tesi della immobilità di ogni cosa della immutabile del bionicosa comunque debba essere considerata anche in questo ampliamento di categorie metafisiche cui ho fatto appena accenno ma che significato ha per resistenza non è forse vero si è detto e con qualche ragione diciamo se ci fermiamo ad una serie di scritti che in tutto questo non ha per un verso non ha un significato per la vita dell'uomo e per un altro verso sembra che renda insignificante la vita dell'uomo ora ripeto questioni di questo tipo sicuramente potevano nascere tra gli autori tra gli autori discursi da Niccolò Tarquini e lo faccio anche per nominare un'altra scuola di metafisica o per quella milanese cui ci siamo sostanzialmente soffermati che le sue propaggi diciamo anche combinati con i romancini cioè quella di Padua quindi quella della linea aristotelica la scuola milanese se per scuola milanese intendiamo ci restringiamo a bontadini cioè a una giove dei metafisici di questa scuola questa scuola è andata orientandosi verso una preminenza assegnata loro di Parmeni che non appartenera a questa preminenza né al maestro comune di bontadini e di Sofia Vaninorighi che si chiama Thomas Novo e neppure alla Sofia Vaninorighi che seguiva la linea più classica della metafisica aristotelica la scuola di Padua dava una direzione anche un po' diversa rispetto alla linea aristotelica potremmo dire quella di Sofia Vaninorighi una linea aristotelica tomista quella di Padua nella linea aristotelica il tomismo non ha una funzione così importante giusto per dare qualche indicazione ulteriore circa la complessità della discussione circa la metafisica classica in Italia di cui il libro Padua ma dicevo due autori uno o tonoro l'altro o meno insomma della scuola padovana discursi nel libro cioè Enrico Berti e poi adesso dirò dell'altro nome avevano insomma messo in caro Sciglioni messo in questione esattamente se ci fosse una insignificanza di risultato nella metafisica di Serena ora proprio negli anni in cui queste obiezioni venivano mosse non erano le uniche ricordo soltanto una critica all'univocismo ma in questa critica all'univocismo egli accumunava a Serena accumunava anche il maestro Contadini ecco ma nel 1980 usciva un'opera nota Serena titolata destino della necessità io non so se insomma vorrei dire qualcosa sul senso di quest'opera e per concludere con una citazione tratta da un testo poco noto di Montadini dei primi anni di 80 ora io ricordo che scrissi una recensione di quest'opera proprio per quegli anni in cui stavo studiando un severino che parlava di tutt'altro appunto il severino metafisico uscì quest'opera in cui insomma sia per linguaggio sia per tematiche erano devo dire cose molto diverse ma cose molto diverse nel senso che il discorso si ampliava prendeva in esame il tema del linguaggio il tema dell'interpretazione però sulla base di una critica che era diventata vaticare alla contingenza una certa interpretazione della contingenza permaneva nonostante tutto ciò che abbiamo ascoltato in precedenza anche nel severino ma immediatamente successivo ricordava Parmenide certo un significato di contingenza che concerneva non l'ente in quanto ente ma l'ente nella sua manifestazione ma in ogni caso un significato di contingenza avente ma l'ora di verità presisteva come servito tutto questo viene a cadere con destino della necessità e siccome appunto vengono a cadere molte cose quest'opera diversamente da come io vedo la leggevo in quegli anni quando ne scrissi venne intesa come un segno del nichilismo del pensiero severiniano quindi veniva ad essere libertata dei confronto di Serino ovviamente dando un'accessione diversa al termine nichilismo rispetto a quella secondo la quale Serino accusa l'occidente di nichilismo veniva proprio per motivo di tante cose che venivano a cadere della nostra comprensione comune della realtà e della vita questa cosa ripeto veniva in volta a serino molte recensioni non tanto sui viste diciamo accademiche di filosofia ma i viste culturali quotidiani se si andasse a cercare insomma questi testi ci si accorgerebbe di questo aggiungo come piccola notazione non ho il tempo di raccontare anche io anche se mi piacerebbe aneddoti ma aggiungo una piccola osservazione io ho ritrovato avendo potuto consultare l'archivio Bontedini che Bontedini aveva conservato molti di questi di questi articoli alcuni anzi per gli ovvio letti per una volta di San Saliani proprio avendo potuto consultare l'archivio di Bontedini ma io leggero diversamente cioè leggero per l'opera come un tentativo di mettere in questione l'antropologia filosofica dell'occidente il senso della storia dell'occidente ma non in senso di cristico ma nel senso di certo Severino poi non soltanto metteva in questione ma anche tirava delle conclusioni su quelle conclusioni certamente si poteva si doveva si ridiscutere ma leggevo anche in quell'opera e non per motivo di distribuire insomma anche se potevo farlo per altre mie mansioni ma distribuire insomma battesimi mettere in questione temi concetti che certamente possono essere a mio parere fondati nonostante le obiezioni sereniane tra questo ad esempio il concetto di libertà ma che tuttavia forse per una fondazione più vigorosa possono passare anche a trovare su alcune obiezioni di Severino ora prima di concludere con la promessa citazione da Pontadini vorrei insomma tornare a un'indicazione circa il tema della contingenza che certo noi usiamo questo termine possiamo intendere questo termine la espressione scherzosa ma anche un po' maliziosa di Mancini insomma avvertono il peso della contingenza l'espressione cosa vorrebbe dire che se avverto la affermo come qualcosa che appare di immediato l'esperienza della contingenza l'esperienza della contingenza bene cito Sofia Vanni Movini dunque non cito neanche Pontadini dice beh insomma sappiamo del rapporto quindi un'eventuale indicazione botteriana della contingenza potrebbe esserci qualche affinità con Serino a motivo del fatto che magari se lo Serino riprende la da periccichiamo Sofia Vanni su questo tema la contingenza è qualcosa di manifesto diceva Vanni Origi no non è un dato non è qualcosa di fenomenologico perché aggiungeva finissima teoretica la Vanni Origi se noi potessimo affermare la contingenza avremmo già implicitamente affermato l'esistenza deve essere necessaria quindi la contingenza riguardo a ciò che è contingente e che è affermato come contingente è affermata soltanto una volta che abbiamo affermato che esiste una dimensione di essere che chiamiamo essere necessaria cioè abbiamo affermato l'esistenza di Dio del senso corrente dell'espressione dimostrazione della licenza di Dio la bruttolì questa la bruttolì questa 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 tesi che mi pare almeno dal mio punto di vista è da condividere giusto per dire come è complesso come si è complesso questo tema di mettere in relazione che è il cuore della metafisica a meno sentenza della metafisica classica il diveniente con l'eterno il diveniente con il mutabile ma ripeto riguardo al tema diciamo ma se il secondo Severino è completamente da buttare ci mettiamo dal punto di vista di Brontedini che lo ha criticato che ha ritenuto di non poter accedere alla tesi che tutto è immobile che tutto è eterno e da parte sua ma siamo dall'inizio degli anni 80 forse non tenera presente come incominciasse in Severino a svilupparsi un pensiero che volesse cercare di indicare un nuovo modo di intendere i significati dell'esistenza ripeto qualunque sia poi il giudizio che si debba dare di questo nuovo modo perché Brontedini riteneva che nonostante l'affermazione di Severino che tutto immobile e tutto è eterno questa posizione dovesse essere ancora tenuta in considerazione per la stessa metafisica classica diceva che è un'affermazione che è indispensabile indispensabile perché svolge un ruolo dialettico lui diceva per un verso non si può restare con Severino e qui aggiungeva e non ripeto che cosa si potrebbe commentare rispetto a questa osservazione di Brontedini perché andremo nella insignificanza assoluta cosa significa che tutto è immobile per il nostro impegno per il nostro comportamento questioni validissime ripeto mi scuso se insisto su questo ma è soltanto per indicare come Severino abbia inteso dare risposta a questa obiezione in tutta l'opera successiva soprattutto in quella che è chiamata la trilogia finale di un gruppo di teorepere che vanno dal 2011 al 2017 al 2019 e cioè la gloria oltrepassare e la morte della terra usate ancora dal 2001 al 2011 la gloria del 2001 e passare del 2007 la morte della terra del 2011 la cosiddetta escatologia sereniana ma ripeto dice non si può restare e tuttavia questo è il punto che vorrei sottolineare ultimamente bisogna passare attraverso Severino non perché si trova un'obiezione risuperata ma proprio per giungere alla metafisica della creazione che è la mia quindi non Pontadini e concludo ci sta dicendo non si afferma la metafisica della creazione nonostante Severino ma la si afferma perché c'è un punto il punto anche di Pontadini senza il quale non si afferma la creazione cioè non si afferma quella dimensione il rapporto di creazione che è quella dalla quale si passa per affermare l'essere trascendente è un passaggio obbligato per giungere la verità qui è il senso di fondo del parmenidismo di Pontadini qui è il senso di fondo di quel parmenidismo senza del quale non si perviene a una metafisica di trascendenza ed è questa la nota che credo debba restare per chi non accoglie non si dispone come non è nel caso nel caso del dottore del libro alle conclusioni di Severino ma si dispone ripeto ad accogliere questo elemento che forse non tutti i metafisici classici sarebbero disposti ad accettare certamente non i metafisici della scuola padovana e che tuttavia per Pontadini era il passaggio necessario per affermare una metafisica di trascendenza forse sono stato più lungo di quello che pensassi però adesso credo di poter dire anche in assenza per un predatore si può prendere la parola sicuramente l'autore del libro grazie comunque a chi mi ha mi piace perché Raffaella ho dovuto uscire un'altra grazie a tutti i partecipanti e gli intervenuti leggerò un piccolo brano che anche magari per chi non ha avuto modo di leggere il libro può servire un po' da conclusione poi cercando anche di rispondere di dire qualcosa sulle sollecitazioni del professor Bettineschi allora innanzitutto la ricerca che ha svolto ha inteso esplorare alcuni tratti dello sviluppo della metafisica nell'ambito italiano della seconda metà del novecento con particolare riferimento al dibattito tra Severino e i rappresentanti dell'indirizzo metafisico delle scuole di Milano e Padova la ricerca ha avuto tra gli altri l'obiettivo di ricostruire il dibattito innescatosi dopo l'uscita del famoso saggio ritornale a Parmendide del 64 cioè tanto più degno di interesse si considera che l'autore cioè appunto Severino ha partecipato attivamente almeno fino a quella data al progetto di ricordizzazione della metafisica a cui già lavorava da anni il suo maestro Bonradini si può individuare proprio nel saggio del 64 un momento di rilievo non solo nel percorso intellettuale di Severino ma anche nella storia recente della metafisica almeno in ambito italiano nel volume vengono ripercorsi vari risvolti di tale scambio di veduta allo scopo di raggiungere un dubbio obiettivo innanzitutto quello di valutare le ragioni dei vari protagonisti per rintracciare degli eventuali punti di contatto non sufficientemente valorizzati da entrambe le parti in causa tutto ciò per verificare se sia possibile scorgere delle affinità tra Severino e i suoi maggiori interlocutori le quali possano permettere anche oggi la ripresa di alcuni punti controversi in pista di una migliore definizione concettuale dei termini in gioco secondariamente per accertarsi se il percorso severiniano fosse intrinsegamente destinato ad allontanarsi dal quadro metafisico classico come poi è stato o se non fossero presenti delle strutture teoretiche che legittimassero una prosecuzione del suo pensiero lungo una differente prospettiva l'itinerario intrapreso al seguito di uno dei più rilevanti dibattiti verificatosi nella filosofia del novecento italiano ha permesso di mettere in chiaro ancora una volta la vitalità della tradizione metafisica nel senso classico del termine sia all'interno del panorama filosofico nazionale che internazionale a dispetto di chi ha sostenuto più riprese la morte della metafisica il persistere stesso di tale discussione costituisce la prova più chiara della erroneità di quella sentenza anche quanti hanno parlato di pensiero post-metafisico non possono non riconoscere la presenza ma interrottasi della metafisica in Italia non solo lungo tutto il corso del novecento fino ai nostri giorni una presenza che verosimilmente è destinata a protarsi fin tanto che continuerà ad essere esercitata la riflessione filosofica il fatto stesso che si viva in un modo piuttosto che in un altro seguendo certe norme o certe priorità o che si dia un certo senso alla vita già testimonianza del fatto che sia una visione della totalità in cui la vita è inserita ma avere una seppure implicita concezione del tutto significa avere una metafisica tornando agli scritti di Severino sebbene questi a partire da ritornare a Parmenide contengano una critica della metafisica così come si è storicamente realizzata tuttavia non muovono a mio parere da una prospettiva anti-metafisica o post-metafisica piuttosto pare decisamente rilevante come l'angolo prospettico a partire dal quale provengono quelle contestazioni e ancora una volta quello della metafisica seppur intesa in senso differente quando cioè il filosofo Presciano sostiene che la metafisica è stata una fisica sta dicendo che al di là delle intenzioni e nonostante non volesse essere tale la metafisica che si è andata sviluppando dai greci a oggi ha mancato il suo obiettivo ha inteso essere scienza dell'ente in quanto ente ma si è poi costituita come scienza dell'ente in quanto diveniente cioè appunto come una fisica il tono della critica contenuta di ritornare a Parmenide consente quindi di cogliere in modo chiaro lo spirito da cui si origina quel testo e quelli degli anni successivi ossia l'intento di realizzare una metafisica che tenga fede all'intenzione fondamentale della stessa cioè quella del costituirsi della scienza dell'ente in quanto tale la tradizione metafisica occidentale è messa sotto accusa da Severino non per la sua pretesa di arrivare troppo in alto non in quanto pretenda di dire troppo ma al contrario perché dice troppo poco data l'incapacità di cogliere l'autentico senso dell'essere di ogni ente cioè il suo non portere non essere che ogni ente non possa non essere non è ovviamente un'esigenza che l'uomo Severino elabori a tavolino per realizzare quel progetto del sapere incontroduttibile che la metafisica nella sua storia ha fallito ma è all'interno della logica del principio di non contraddizione che si vieta che il divenire degli enti che si nega il divenire degli enti e quindi che permette o meglio richiede che la più alta espressione della filosofia si configuri come scienza dell'ente in quanto tale anche in relazione al tema della presunta insensatezza delle asserzioni metafisiche avanzata dalla corrente neopositivista non pare si possano fare degli accostamenti con la critica severiniana per l'autore la storia della metafisica è errore dimenticanza della verità dell'essere ma non è un discorso insensato anzi quella metafisica che ha nichilisticamente abbandonato l'immutabilità dell'essere ha poi condizionato l'intero sviluppo culturale dell'Occidente tanto da costituirne il sottosuolo che non sempre avvertito ha determinato le produzioni dell'uomo occidentale queste considerazioni permettono di ricollegarsi a quanto ci è potuto constatar nel momento in cui si è preso in esame il dibattito innescato dall'uscita di ritornare a Parmenide la ricognizione effettuata ha permesso di cogliere la presenza di notevoli punti di contatto tra Severino e anche l'allocutore che sebbene non sempre valorizzati e anzi spesso accantonati da entrambe le parti visti a distanza di alcuni decenni e quindi al di fuori del contesto di polemiche in cui si sono svolti appaiono oggi come delle opportunità favorevoli per la ripresa di un dialogo che sarebbe stato auspicabile potesse proseguire su altri binari tutto ciò con la consapevolezza che l'indirizzo contenuto negli scritti severiniani almeno a partire da destino della necessità segna anche un punto oltre il quale si riducono sensibilmente i margini per giungere una conciliazione di ampio raggio data la presenza di argomenti e concetti che sembrano difficilmente potersi adeguare in toto ad una prospettiva metafisica nell'accezione classica del termine quindi si può concludere circa la possibilità di considerare tutta la produzione filosofica di Emanuele Severino come appartenente all'orizzonte metafisico inteso in senso classico relativamente alla produzione del primo periodo in senso inedito o sui generis se si prende in considerazione il periodo inaugurato con ritornare a Parmedide in questo caso come prima ricordava il professor Vigna ritengo si possa utilizzare anche il termine ipermetafisica per descrivere un atteggiamento che supera la metafisica classica in quanto è fortemente radicato in essa ed intende quindi portare fino in fondo e con maggior rigore il programma metafisico di elaborazione della scienza dell'ente in quanto tale questo un po' per riassumere il senso del lavoro che ho svolto poi ecco adesso provo un po' a rispondere alle sollecitazioni che venivano dal professor Bettineschi riguardo ai due sensi della finitezza cioè e anche al il concetto che lui ha introdotto l'espressione che ha introdotto del finire dei finiti cioè secondo me i due modi di intendere la finitezza vanno sempre riferiti ai due sensi del non essere cioè il non essere come opposto dell'essere e il non essere come altro dell'essere che a mio avviso in Severino vanno sempre tenuti uniti nel senso che da un lato o niente non è il proprio altro quindi si determina è se stesso in quanto esclude l'altro ma allo stesso tempo o niente non è l'assolutamente altro dall'essere cioè non essere in questo senso non è soltanto l'eteron nel senso platonico con cui Platone introduce la categoria di eteron ma è anche l'inantion cioè l'opposto dell'essere e quindi in ogni ente vanno tenute insieme queste due differenti direzioni del non essere e per quanto poi riguarda il concetto strettamente legato del finire dei finiti beh se intendiamo questo finire dei finiti come sopraggiungere di altri finiti che in qualche modo limitano e quindi il finito che già è presente quindi danno luogo alla variazione questo finire dei finiti inteso così potrebbe essere anche inteso appunto come un sopraggiungere di enti che tra di loro sono determinati e quindi differenti tra di loro ma allo stesso tempo non significa che questo comporti che questo finire dei finiti comporti anche non comporti una loro eternità in un certo senso ossia se il non essere non viene inteso anche come opposto dell'essere cioè come finire dei finiti nel nulla così perlomeno lo intende Severino quando critica ad esempio Aristotele se non lo si intende in questo modo il sopraggiungere è soltanto potrebbe essere potrebbe essere soltanto un scorrere di eterni cioè si potrebbe rischiare di reintrodurre quella categoria di eterno che invece il professor Bettineschi vuole diciamo mettere da parte cioè finire dei finiti per come ho capito questa controviezione è sopraggiungere di determinazioni che si fanno avanti e che quindi determinano scomparire di altre determinazioni ma questo scomparire non significherebbe ancora inteso in questo senso un loro un loro essere finite nel senso temporale del termine ma soltanto uno scomparire quindi questo che poi non significa per lo meno accettare in tutto e per tutto ovviamente quello che afferma Severino riguardo all'eternità di ogni ente si tratterà a quel punto di di andare a vedere se anche quella seconda secondo passo del tragitto iniziato con ritornare a Parmenghidi che appunto inizia con il gestino dell'angessità si tratterà appunto di vedere se questo secondo passo sia inevitabile o meno o se sia da affermare con quella stessa cogenza con cui sono stati affermati ad esempio le varie tesi ontologico-metafisiche degli anni precedenti cioè dette in altri termini se la totalità dell'essere trascende dell'esperienza debba essere intesa come totalità infinita degli essenti perché se le cose non stessero in questi termini sarebbe possibile reintrodurre delle ragioni appunto per il teorema di creazione e quindi a quel punto riaffermare la finitezza e quindi la contingenza ma proprio in come corollario del teorema di creazione come appunto era stato in qualche modo già anticipato da Masnovo e poi ripreso dalla Vanni Rovig seppur con accenti un po' differenti quindi per concludere in un certo senso potremmo dire in prima istanza si potrebbe rimanere e sviluppare un'ontologia intesa nel senso siveriniano il che non significa accettare tutto il sistema di Severino ma perché non perché semplicemente non per una scelta personale ma proprio per andare a vedere se non ci siano delle ragioni che permettano di prendere un'altra strada rispetto a quella intrapresa da destino della necessità in poi che effettivamente per lo meno per quanto riguarda il rapporto tra totalità dell'essere e essere che appare si configura come strana la metafisica classica se non fosse necessario questo secondo passo del tragitto del Severino post ritornare a Parmenide allora si potrebbero riaffermare delle ragioni a proposito della contingenza ma appunto fondate sul teorema di creazioni grazie allora io ringrazio tutti i partecipanti i professori che hanno presentato il libro di Nicola Tarquini ringrazio l'autore ringrazio le persone che hanno assistito sia qui in presenza che a distanza e chiudiamo questo incontro ne seguiranno altri che spero siano altrettanto interessanti grazie a tutti grazie a voi grazie ciao 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 grazie arrivederci a tutti grazie ciao